Guardate cosa accade in diretta, le persone che stanno cercando di ripulire come possono le proprie case, i giardini, il patio, dal fango e dall'acqua che la scorsa notte hanno invaso senza risparmiare nulla. Purtroppo sono scene che abbiamo già documentato, poco più di un anno fa, che si stanno ripetendo proprio in queste ore. Vi voglio fare vedere alcune immagini, le immagini che ci riportano adesso a Faenza, Faenza che è stata già tristemente colpita un anno e mezzo fa, come vedete ci sono i soccorritori, le strade si sono trasformate in fiumi, quindi i vigili del fuoco che cosa fanno? Arrivano e traggono in salvo le persone, lì è sondato il torrente Marzeno, fango e acqua per la terza volta in un anno e mezzo, la popolazione è assai provata perché evidentemente non c'è pace per loro. Ecco, questa è una visione dall'alto, guardate che cosa è successo e questa è la situazione fino a qualche ora fa e chiaramente il maltempo non sembra dare tregua in quella zona. Guardate i campi, l'agricoltura anche ha dei danni importantissimi per quello che stiamo documentando. Altre immagini che ci portano a un altro centro colpito dove è esploso il fiume Tramazzo. Siamo a Modigliana, la situazione è gravissima, guardate questa strada che è stata completamente trasformata in un fiume, fa impressione quell'immagine dall'alto in cui si vede questa cittadina letteralmente divisa a metà dall'acqua che è arrivata, diciamo vedete anche copiosa, questo è appunto il tramazzo. Certamente è una situazione di grande allarme, come stiamo vedendo le persone sono mobilitate, come ho detto prima ci sono un migliaio di persone che sono in questo momento senza casa, ci sono due dispersi e addirittura adesso l'ultimo racconto è che i muri delle case in alcune zone stanno cercando.